Nella scorsa puntata del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato e Shai La Gatta sono stati premiati con una trasferta al Gran Hermano Spagnolo. Durante la loro esperienza a Madrid, i due concorrenti si sono avvicinati molto, rivelando una passione che fino ad ora avevano nascosto. Lorenzo ha fatto delle dichiarazioni sorprendenti sul suo rapporto con Elena Prestes, definendolo un semplice gioco. Queste parole hanno scatenato polemiche tra i telespettatori. Lorenzo ha rivelato di essere interessato solo a Shaila, nonostante Elena fosse innamorata di lui. Questa confessione ha suscitato reazioni negative sui social, con molti che hanno criticato il comportamento del concorrente. Il web si è infiammato di commenti contro Lorenzo, accusandolo di aver illuso Elena e giocato con i suoi sentimenti. L'attesa è ora per il ritorno di Lorenzo e Shaila al Grande Fratello Italiano per capire come si evolverà la situazione tra i concorrenti. La vicenda è stata definita un quadrilatero da signorini e si prevede che ci saranno nuovi sviluppi una volta che i concorrenti saranno di nuovo nella casa. La storia tra Lorenzo, Shaila, Elena e Javier continua a tenere banco sui social e tra i fan del reality show. Resta da vedere come si evolveranno le dinamiche tra i concorrenti e se ci saranno ulteriori colpi di scena. Per rimanere aggiornati sulle news del Grande Fratello, continuiamo.